Cassa amore mio SETTE! 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 Siamo nella nuovissima casa del youtuber ragazzi Il primo video che facciamo qui dentro e sono con Dani perché oggi è un video super speciale Lei è ovviamente la mia ragazza perché non la conoscesse e siamo appunto su Dani Il profilo suo, il suo personalissimo profilo Quello che faremo quest'oggi ragazzi è tentare di andare a prendere nel caso sbloccare il nuovissimo brawler Lu, lo conosci Lu? Eh sì, l'ho intravisto Questo qui? Ah sì, quello che ti sta pulito per il gelato in un video Eh ok Però ragazzi se non l'avete visto è il video, imito le animazioni dei brawler Ed è una sua animazione di quando perde che lui si è un distributore di gelati E oggi sul tuo profilo tenteremo di andarlo a trovare Ok Quindi prenditi il brawl pass, vai su attiva e prenditi le prime dieci soglie Ok Voi vi metterete subito un bel like e vi diamo 5 secondi per lasciare like se anche voi volete sbloccare il nuovissimo brawler Lu Quindi 5, 4, 3, 2, 1 Spero, buon capodanno lo sembra, no? Spero per voi che vi lasciare like se volete il nuovo brawler Lu Se vorreste sbloccarlo Allora, andando adesso con Dynamike Probabilmente ci sblocchiamo Dynamike Ah ok Ok, quindi vai Sembrava un marinaio No, lui non è un marinaio, è un facchino Ah ok Guarda, lui adesso è il minatore Dynamike Ok E adesso questo qui è il facchino, guarda con le valigie Oh che carino Esatto, esatto ragazzi Siamo quelli che si trovano negli hotel Che si accolgono Esatto, perché questo brawl pass è a tema snow hotel Ossia un hotel del signor Mr. P Mr. P sarebbe il pinguino Lui è Mr. P ed è il proprietario dell'hotel E poi Lu è un distributore di gelati che lavora nel suo hotel Pino di neve Ma quindi il signor Pinguino è super ricco Eh sì, ha un hotel, sarà super ricco il signor Pinguino probabilmente Ma che ne so Vai, vediamo quanto sei fortunata Ok, 2, skip Subito il minoso Subito il minoso ragazzi No, qua c'è un account dove abbiamo già spacchettato Quindi ci sono già dei brawler Ma subito Luminoso Andiamo Ed è rosa Un bel brawler raro Ottimo, ottimo, ottimo Spero ragazzi Mi sono dimenticato che da questo brawl pass Non si può sbloccare l'u se non arriviamo alla soglia 30 Quindi è inutile spacchettare tentando di trovare l'u se non abbiamo la soglia 30 Quindi ragazzi Arriviamo fino alla soglia 30 Ragazzi Appena cliccherò sul 30 Avremo la certezza di sbloccare l'u Ma potremo ottenerlo anche dalle casse Quindi vai, vai Attenzione Ok Da adesso in poi L'u è presente anche nelle casse Ah, ok Ok Quindi tutte queste casse ce le apriamo E ovviamente ragazzi Se volete video molto 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 particolari all'interno della casa delle youtuber Potete vedere la casa delle youtuber questa qui nuova Per quanto c'è subito un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere più nessun video Andiamo amore mio Vai Megacassa Quella che vuoi Tanto tutte devono aprirle Vai bella veloce luce che abbiamo 30 Ben 30 Soglie da aprirci Niente nuovo brawler Va bene Cassa enorme Questa è enorme Enorme Ciccate Unamente uscita qualcosa No 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 Vabbè ce la possiamo fare Ce la possiamo fare ragazzi E' ancora l'inizio Abbiamo un sacco di casse da aprirci Loro non ci interessa Il pacchetto di reazioni Ok Sbloccato Abbiamo sbloccato le reazioni Si bloccano per forza Qui sblocchiamo anche dei punti di energia Altra cassa enorme Vai 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 Anzi che è schifo 69 di oro Niente è schifo Luminoso Ma Cioè ragazzi Comunque io mi sono appena accorto Che abbiamo appena sbloccato rosa Ma qui avevamo già Avevamo già un epico Cioè noi avevamo un epico Prima ancora del raro Quindi è un account un po' bagato E attenzione Potrebbe essere un account bagatino Quindi può succedere davvero di tutto Allora Non ti devi concentrare Perché quando ti concentri Scura non ti escono le cose Quindi non devi concentrarti E non devi concentrarti Va bene io non mi concentro La 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 Non riesce comunque niente Quindi è meglio se mi concentro No 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 Io lo so Cosa deve cambiare Cappellino da King Grazie 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 Adesso ragazzi Che ho completato Come ben sapete La mia struttura fortunata Possiamo andare Va bene va bene Va bene questa l'hai vita Eh sì era già toccata prima Di quella Vai Grazie enorme Ti do la fortuna Ti do la fortuna No 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 Proviamo riproviamoci Riproviamoci Questo qui è loro normale Io voglio fare con questa cassa qui Dai un bel 6 Andiamo 5 5 5 Eh sì signori Non è che è lei che porta un po' sfortuna Eh ragazzi Schiedete le commenti Secondo voi Lei vi porta la sfortuna Oppure no Ti senti sfortunata? Un po' gatto Oh e perché? E perché? Un attimo ragazzi Fortuna entra qui dentro Entra qui dentro Speramente sarò più fortunata Oh se trovi un nuovo brawler E abbiamo trovato il metodo infallibile per trovare No due skip Poi un tiro No 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 Ci vuole Questo cappellino è fortuna No ma forse ve lo devi dare Proviamo 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 Perché è il mio account quindi ho bisogno del cappellino Vai 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 Passa braw Vai due skip La cassa braw non si trova mai in me niente tranquilla tranquilla No io direi di andare un po' più avanti e puoi tornare indietro Va bene va bene vai 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 Bella Scusi mi scusi signorina mi potrebbe dare un po' di fortuna perché questa qui è scarica Grazie Oh se non trovi nessun altro brawler io ti lascio Io ti lascio Ti lascio se non trovi nuovi brawler eh Cioè io sto con te perché mi devi portare fortuna e tutto quanto E poi non trovi nuovi brawler No 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 questa qua me l'apri me l'apri Con il naso vai Ok Vai attenzione 5 scritto ma c'ha pure il naso sfortunato Ma che cos'è Forse col mento dopo dobbiamo provare col mento Col mento col mento No no adesso abbiamo fatto col naso Eh ok continua col naso C'ha il naso stigato C'hai il vostro naso fortunato o sfortunato Oh 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 Se sta challenge è bella Se sta challenge è bella dovete riuscire a scrivere nei commenti Il vostro nome cliccando solo col naso E ora usciranno le note più strane in assoluto Abbiamo ancora un sacco di casse quindi velocizziamoci Ok questa col mento vuoi fare Aia ma mi stai rompendo il telefono Ragazzi ha dato una mentata fortissima sul telefono ve lo giuro Se tu ti preoccupi del cellulare non del mio mento bello bello Ma finchè è un mento sfortunato io mi preoccupi del mio cellulare Se avessi trovato il nuovo brawler avrei tanto curato le carezzine Ma eh eh Lo devo invece schiaffeggiare perché è sfortunato Andiamo andiamo Dai do dove andiamo signori Ma c'è qualcuno tra voi che ancora non ha lasciato like Perché non è possibile che non troviamo brawler da diversi minuti No 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 Sì questo account c'è l'uso che ci avete trovato subito al primo E poi non ci ha trovato No 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 Dai 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 Tranquilla amore Tranquilla che oggi troviamo Troviamo della roba tranquilla Allora I ragazzi ragazzi Al cielo le mani manco Goku contro Freezer Proprio questa quanta la fortuna Guardate qui io non lo guardo manco il telefono Clicco Attenzione quant'è cinque skip Forse era meglio se Non lo so mi sembra sprecato il mio capito da king degli spacchettamenti Su questa pistolina sfortunata qui Cioè è assurdo È assurdo è assurdo assurdo C'è qualcosa che non cosa C'è qualcosa che non quadra Attenzione andiamo con le gemettine Ci ricarichiamo così dopo possiamo anche aprireci delle mega casse Casse enorme vai vai E il tuo account devi trovare Devi trovare il brawler No amore amore Devi trovare Ragazzi qui si sta per rompere un fidanzamento Si sta per rompere Cioè noi è vero che dobbiamo trovare il signor Lu Ma Ok allora Allora forse è questa che è Lu Ci porterà fortuna Sì due skip Ancora peggio Ancora peggio C'è proprio due skip Da schifo Anroginante Vai Attenzione Altri due skip Signori non gli faccio più toccare il mio telefono Non è possibile Proviamo Guarda apri sta cassa enorme E trovami un brawler enorme Quanto meglio Io sono Però mi prometti che non mi lasci No 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 io ti lascio se non trovi il brawler Non ti permettere Non ti permettere Ora devo guardare Non guardo Ok Fini gli occhi Ora devo guardare Niente E' finito Ci sono ancora delle casse Puoi ancora trovare Nuove il brawler Attenzione Ti apro queste due Io qui in maniera super veloce Attenzione Attenzione Così almeno possiamo dire Che hai avuto meno possibilità Perché l'ho aperte io Le casse non le hai aperte tu Ok Vai Vai Attenzione Attenzione Amore Stai rischiando Stai rischiando Stai rischiando Grosso Grossissimo Veloce Veloce Vai 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 Devi crederci Ma tu ci credi Fai 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 Un balletto Della fortuna 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 Così era una scimmia ubriaca Che tentava di uscire Da un bar Praticamente Con la polvere magica Della fortuna Quanto E questo Guarda 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 Quanto faceva Schimmo Il tuo balletto Della fortuna Cioè è assurdo È assurdo Questo È un balletto Della fortuna Ok Dopo questo Balletto Vero Della fortuna Guarda qui Sottiene No Non sottiene Se non vi porti Sfortuna Pulisco la sfortuna Perché l'ho toccata Finora Questa cosa Sfigata E guarda qui 3 2 1 5 E può passarci vicino Ragazzi È assurdo Allora Gli opposti si attraggono È vero C'è una sfortunata E uno fortunata A quanto pare Vabbè Ma io sono fortunata In amore E mi sa tanto Perché qua Proprio sul profilo Che è proprio Zero Zero Ragazzi Abbiamo Abbiamo ragazzi La possibilità Di questa Offerta Cyber week Nella casa Degli youtuber Ci deve portare fortuna La casa Degli youtuber Quindi prendiamo Questa doppia Mega cassa Una tu Una io Ok Vai Apriti Questa prima Mega cassa Amore mio SETTE 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 SKIP SETTE SKIP SETTE SKIP SETTE SKIP Andiamo Andiamo SETTE SKIP Siamo pieno Degli youtuber E' una casa E' una casa Ragazzi Questa è una casa Dopo skip Però ci sono anche gadget Perché ho alzato Per aumentare le cose Da poter trovare Ho alzato Alcuni brawler Sette potrebbero essere Skip Lo sai che potrebbero essere Due gadget E non troviamo comunque Un brawler E io comunque Ti lascio Vai Vai Sì 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 Secca C'è una Ancora Super raro A trovare Non ci credo Vai Sì Un altro brawler Doppio nuovo brawler In questa cassa Ragazzi Doppio super raro E abbiamo ancora Una cassa Ragazzi Mamma mia C'è sette Skip In una cassa C'è abbiamo Spettato a finire Però mamma mia 3 2 1 Andiamo con un altro 5 5 Va bene Va bene Alla fine Ho trovato Due brawler Così Uno dopo l'altro Niente skip Luminoso Ci sta ragazzi Super offertona Questa della cyber week E adesso Per finire in bellezza Il titolo di questo video È la mia ragazza Sblocca Lu Quindi Sblocca Lu Ragazzi E con questo Arriviamo a ben 4 nuovi brawler In questo video È nuovissimo Guarda questo è carino Bello Imita un attimo Sì È uguale Ragazzi È proprio uguale Se così vi è piaciuto Un bel like E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao!